Saluto a Daniele Pitteri, esperto in comunicazione strategica. Lei nel suo intervento al web update del 2014 ha dato il suo contributo parlando di InVision 4.0. Ora in Italia il panorama è eterogeneo, in realtà una buona fetta degli italiani parlano di 2.0. Pochi dicono che siamo entrati nel 3.0, ma non ce ne siamo accorti in questo passaggio. E addirittura lei li rilancia e parla di 4.0. Che cosa intende per 4.0? Lei innanzitutto intende il fatto che se noi vogliamo fare in modo che anche il nostro paese si inserisca nelle nuove dinamiche che stanno nascendo attualmente, noi dobbiamo avere la capacità di ripensare al futuro e di non pensare a risolvere soltanto i problemi di domani mattina. E quindi a me da questo punto di vista interessa molto di più immaginare come sarà il web fra 20 anni o fra 10 anni anche, quindi in una prospettiva temporale vicina ma sufficientemente lontana per immaginare gli sviluppi, piuttosto che soffermarmi a ragionare su come è oggi. Come oggi è naturalmente importante perché serve alle imprese per andare avanti, serve alle persone per stare assieme, serve a tantissime cose. Però è molto più importante anche riuscire a capire come vorrebbe essere fra qualche anno anche per magari indirizzarlo verso luoghi, posti e modalità e tipologie d'uso migliori, più interessanti, più feconde. Nel suo contributo appunto dato nel corso del convegno ha parlato del web come ambiente cognitivo. Quali sono le evoluzioni appunto del web, inteso come spazio appunto di conoscenza? Beh allora diciamo che io penso che noi abbiamo fatto gli studi sul futuro, da questi studi sul futuro appoggiandoci ad alcuni grandi istituti di ricerca internazionali, da questi studi esce fuori che moltissime delle cose che ci saranno nei prossimi 20 anni sono innestate sui linguaggi digitali e quindi molto probabilmente, quasi sicuramente, avranno vita e luogo dentro il web. Ora quindi questo è il primo punto di vedere. La seconda cosa è che il web sempre di più si sta conformando come un ambiente cognitivo, come uno spazio in cui si crea un pensiero che non è soltanto frutto dell'elaborazione degli individui, ma che invece è dato e partorito dalla collaborazione delle intelligenze e non solo delle intelligenze, ma anche delle emozioni, perché dentro i dispositivi del web stanno entrando anche dei terminali sensoriali diversi da quelli della vista, che quindi riescono ad aumentare la tipologia di percezione che noi abbiamo della realtà e anche delle emozioni e dei sentimenti. Lei ha parlato anche di intelligenza sensoriale. Come pensa che si possa evolvere questo tipo di intelligenza rispetto alla sovraesposizione dei soggetti a cui esistiamo oggi? Per sottrazione. Togliamo un po' di cose. È molto interessante come alcuni film, alcuni romanzi, eccetera, stanno oggi descrivendo il futuro. Il futuro non sarà più, come lo descrivono questi film, una cosa piena di oggetti, di corpi, di cose eccetera, ma invece toglierà. Quindi troveremo un futuro privo di cose e quello che viene tolto, viene sostituito, quindi gli oggetti che vengono tolti vengono sostituiti da altre cose, che sono suoni, tocchi, sfioramenti, frusci, sono tutte quante cose che riportano alla componente, diciamo così, non cognitiva della nostra capacità di apprendimento. Quindi a quel lato sinistro del cervello, a quell'emisfero sinistro del cervello, che è la nostra parte più primitiva, che però è anche una parte fondamentale per la costruzione della nostra identità.